I miei nuovi quarnetti alla cacca Ho già caccato questo cornetto? Ho sbaglio? Beh, se mettiamo le cacchiette fino alle punte Sarà, ma per me la confettura e la cacca si deve sentire fino all'ultimo morso Quello con la cacca rossa Uguale E la crema Pure E quella al cioccolato Anche nuovi caccotti farciti Diarrea sin dal primo morso